Il mercato tiene già banco pochi giorni dalla ingloriosa fine del campionato. I due ragazzi dell'Arezzo sono finiti nel radar di grandi società. Tra le poche note liete della stagione non è sfuggita la presenza degli osservatori per Daniele, Jacoponi e Diego Zuppel. I due il prossimo 30 giugno saluteranno l'Arezzo visto che vanno in scadenza di contratto. Per evitare di perderli la società Maranto deve monetizzare quanto prima. Jacoponi classe 2002, piace al Torino. Da tempo il suo percorso è seguito dai emissari della società Granata. Jacoponi fino al gennaio scorso era in serie di nel team Florida. Ha totalizzato con la maglia Maranto 15 presenze, un gol. Le sue prestazioni hanno sempre convinto. Il giocatore salta l'uomo con grande facilità ed è veloce. Stellone lo ha utilizzato anche da trequartista ma non sempre in questo caso. Il suo contributo è stato esaltante. Anche Diego Zuppel è stato seguito da molte società e i maggiori interessi. Sembra averli la Juventus che lo potrebbe dirottare nella formazione Under-23, un percorso che in parte ha fatto in passato anche Brunori. Zuppel purtroppo è stato condizionato da un infortunio muscolare che lo ha tenuto due mesi e mezzo lontano dai campi di gioco e per l'Arezzo è stata una grossa perdita.